Per cui questa valutazione che io ho fatto su il candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica. Il giovane Emmanuel Macron all'età di 15 anni ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante Brigitte, all'epoca lei aveva 39 anni e lui 15. Al di là poi delle cronache rosa che hanno voluto incensare questo grande amore con un matrimonio che grottescamente si potrebbe definire riparatore, resta il fatto che lo sviluppo psichico di un bambino, perché tale era a 15 anni Emmanuel Macron, si è fermato, è stato violentamente fermato da una seduzione sia fisica che psicologica. Cos'è accaduto? Freud lo insegna in Tottenham e Tabù, è stato superato un limite, il limite stesso che il tabù prescrive, quindi il primo passaggio è stata questa idea che tutto poteva essere concesso, naturalmente questo è accaduto negli ambienti bene di Parigi, perché se questo episodio fosse accaduto in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tolera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente, il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi e Brigitte sarebbe finito in carcere, questa è la realtà del fatto, ci siamo trovati di fronte e si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà, quindi superato il limite si instaura nel Macron una idea di onipotenza che anche dato le sue notevoli capacità sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite, in sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri per coprire un'interesse interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità, quindi l'idea che non ci siano limiti, una onipotenza già prevista nel bambino, ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Manuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana, quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale, può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, punti di riferimento, per esempio un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche messa in discussione nel momento della contraddizione, vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui, come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzata per esempio dalla grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua sedutrice che era anche un'insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare e anche a trarre in inganno l'interlocutore. non ha rimorso. Quando Macron parla di sdentati per definire i poveri, quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan, lui si giustifica, dice ma non intendevo questo, perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui, lui crede a quello che ha detto e che non può far vederlo. Macron quando manifesta questi sensi di disprezzo nei confronti delle persone e questi sensi di disprezzo provengono al suo inconscio, che poi lui modifica razionalmente, ma senza rimorso, perché non prova colpe. Quindi qual è il problema? La domanda se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi, Emmanuel Macron come tutti gli psicopatici sono altamente pericolosi, un intenditore, un intellettuale che si è occupato anche di questo disturbo ben integrato e anche notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese, Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. La conflittualità nei confronti di Marine Le Pen non è una conflittualità solo, almeno per lui, di tipo politico, ma lui non può accettare che una donna, che la Marianne, che è la rappresentante della Francia sia in antagonismo con lui. Lui ha bisogno, come attualmente, di una madre accudente. Tutto il resto per lui diventa difficile, difficilissimo da sostenere. Quindi è pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, accettando quanto meno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza, solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere.